Per il quindicesimo anno consecutivo si rinnova a Panettieri, nel Cosentino, il tradizionale presepe vivente che ogni anno richiama centinaia di visitatori. La presentazione che va in scena il giorno di Natale e di Santo Stefano sarà replicata giovedì 29 dicembre. Cresciuta ed arricchita negli anni con elementi e contenuti, la manifestazione è entrata di recente a far parte degli eventi culturali storicizzati della Regione Calabria, un riconoscimento che assieme alla numerosissima e sempre crescente affluenza dei visitatori, gratifica e ripaga tutta la popolazione di Panettieri, impegnata ormai da anni a diversi livelli con passione, sforzi, impegno e soprattutto collaborazione nell'organizzazione e nella realizzazione dell'evento. Il presepe vivente è volto a fare rivivere gli eventi di luoghi della Betlemme che ha visto nascere Gesù, con un'ambientazione attenta alla riproduzione storica e al tempo stesso rivisitata ed adattata alla tradizione, agli usi e ai costumi del piccolo borgo del Cosentino. Fede e tradizioni dunque che si affiancano e si fondono insieme in uno scenario incantato, creato per trasmettere a tutti un messaggio di pace, amore, speranza e fratellanza, ma anche di cultura e di saperi.